Amiche ed amici di Antenna Sud ben ritrovati diverse le notizie che tratteremo oggi in questo nostro appuntamento di informazione dall'aggiornamento sugli arresti per l'inchiesta calcio scommesse all'allarme bomba all'Università di Bari alle indagini sull'attentato di Brindisi alla scuola Francesca Morvillo Falcone all'aggiornamento sulle condizioni di una delle ragazze ferite nell'esplosione Veronica che pare non riescano a migliorare pur se trasferita in uno dei centri di eccellenza italiano per il trattamento delle grandi ustioni, l'ospedale di Pisa. Veronica per fortuna ancora tutelata da un'informazione che effettivamente ha attraversato tanti punti bui nella gestione della notizia che ha riguardato l'attentato di Brindisi ma che effettivamente spesso si esprime attraverso un diritto di cronaca che non rispetta le persone e la dignità umana ancorché le donne. Di quest'ultimo punto insieme alla necessità di un linguaggio di genere che voi cari telespettatori conoscete molto bene ha parlato questa mattina il direttivo pugliese di Giulia che si riferisce ovviamente all'Associazione Nazionale di Donne Giornaliste Italiane Appunto Unite, Libere, Autonome e che si sta prendendo un importante impegno assumendo un compito strategico, quello di fare appello alla responsabilità e alla tenacia delle giornaliste italiane per cambiare i termini di una informazione e una comunicazione troppo spesso sessista, sciacalla e lavorare sulla cultura del rispetto e l'affermazione di una democrazia paritaria. Un grande lavoro credetemi che ha bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti voi cittadini e che si può e si deve portare avanti per chi è antenna sud nella dimostrazione e che si deve anche alla lungimiranza di un editore che in tempi non sospetti ha affidato un timone strategico, quello dell'informazione ad una donna. Pensate solo alla declinazione al femminile, per la stragrande maggioranza di voi ormai è un diritto acquisito e poi tante piccole cose che potreste continuare a segnalare al sito di giuliagiornaliste.it o anche a noi che a nostra volta poi faremmo da ponte perché un futuro rispettoso e dignitoso per tutti, per noi stessi e per i nostri figli lo dobbiamo pretendere e lo dobbiamo cercare perché sapete bene non ce lo regala nessuno perché vigilare sull'informazione deve diventare principalmente un vostro diritto soprattutto in momenti come questi dove è facile dover parlare di atti di sciacallaggio come si è dimostrato il fatto di oggi, l'apertura che adesso vi proporremo e che si riferisce all'allarme di una bomba presente nell'Università di Bari. Ovviamente tutte le famiglie questa mattina, tutti gli studenti, tutti i cittadini baresi hanno vissuto momenti di panico rispetto a questa notizia che poi per fortuna si è rivelata essere infondata e allora è sempre bene, come vi dicevo poc'anzi, avere gli occhi aperti e cercare di tutelare al massimo, ma veramente al massimo, questa informazione che deve rispettare assolutamente la verità e la dignità umana. Dicevamo, allarme, bomba all'Università di Bari, una telefonata anonima ha annunciato questa mattina la presenza di un ordigno, tutte le sedi dell'Università e del Politecnico sono state evacuate centinaia di studenti e docenti si sono riversati per strada, sul posto polizia e artificieri. Vediamo il servizio di Maria Luisa Troisi. Momenti di panico all'Università di Bari, una telefonata anonima al 113 verso le 9 di questa mattina ha annunciato la presenza di un ordigno e dell'Università senza però precisare la sede in cui sarebbe stata collocata la bomba. Dall'Ateneo al Politecnico, dunque, sono stati evacuati tutti gli edifici per ragioni di sicurezza ha spiegato il Rettore dell'Università Corrado Petrocelli, decisione condivisa dal Rettore del Campus Nicola Costantino. Al Politecnico, tra l'altro, l'allarma è stata maggiore per la presenza nella Facoltà di Chimica di sostanze potenzialmente letali in caso di esplosione. Centinaia di studenti e docenti si sono riversati nei giardini di Piazza Umberto e Piazza Cesare Battisti, tra l'altro in una giornata di esami per molte facoltà. All'Ateneo, poi, alle 11, era in programma la presentazione del rapporto statistico annuale dell'IPRES Puglia in cifre 2012 con il Governatore Pugliese, Nichi Vendola. Ho ricevuto una telefonata dal Rettore in persona che mi comunicava che, a seguito di un'allarma e bomba, era indispensabile procedere con l'evacuazione degli stabili della Facoltà di Giurisprudenza, sia quello di Piazza Cesare Battisti che quello di Corso Italia Venita che, naturalmente, abbiamo immediatamente procedere. Sul posto sono intervenuti poliziotti, artificieri, uomini della Digos e delle volanti che stanno effettuando controlli in tutte le sedi per verificare l'effettiva presenza dell'ordigno. Ormai l'identikit dell'uomo responsabile di aver azionato il telecomando che ha fatto esplodere le tre bombole di gas collocate in un cassonetto dinanzi alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi è definitivo. Gli investigatori hanno già sentito oltre 150 testimonianze. L'identikit dell'uomo responsabile di aver azionato il telecomando collegato all'esplosivo che ha ucciso Melissa Bassi e ferito gravemente cinque sue coetane e nove giorni fa a Brindisi è ormai definito. 45 anni, capelli rasati, occhiali da vista dalla montatura leggera e quanto emerge dalle immagini del video ripreso dalle telecamere piazzate sul chioschetto di fronte all'Istituto Francesca Morvillo Falcone. Il lavoro importante degli uomini della scientifica ha ripulito uno per uno i fotogrammi che ritraggono l'uomo che preme il telecomando, restituendo un ritratto dell'attentatore differente da quello emerso nelle prime ore. Non è anziano, non ha alcuna menomazione, si muove su passi sicuri e ha agito con la collaborazione di un complice. Oltre a decodificare il video per l'inquirente è stato importante il contributo di oltre 150 potenziali testimoni che sono stati ascoltati dal pubblico ministero Milton De Nozza per approfondire anche di piccoli particolari il quadro investigativo. Non è ancora chiaro quando sia stato piazzato l'esplosivo, quello che invece si sa è che il cassonetto blu piazzato sul lato sinistro del cancello sotto un cartellone pubblicitario 6x6 conteneva tre bombole di gas esplose alle 7.45, un ordigno dal peso complessivo di circa 100 chili composto da gas propano liquido probabilmente miscelato e esplosivo che aveva bisogno di tempo e di almeno un complice per essere collocato in fretta al riparo dallo sguardo di testimoni scomodi. Le condizioni di Veronica, la sedicenne ferita durante l'attentato di Brindisi sono ancora gravi. La ragazza è stata trasportata nell'ospedale di Pisa giorni fa dove è seguita da un primario pugliese e da una equip che monitora la situazione 24 ore su 24. Le professionalità dei medici pisani sono tutte per Veronica Capodieci, la più grave delle ragazze rimaste ferite nell'attentato della scuola Morvillo Falcone di Brindisi dove è morta Melissa Bassi. Le condizioni della ragazza trasportata nei giorni scorsi con un volo militare da Lecce al centro grandi ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa, uno dei migliori in Italia, continuano a preoccupare. Il problema più grande è rappresentato dalle ustioni che coprono il suo corpo. Il primario Antonio Di Leonardo, anche lui pugliese, ha dichiarato ci spenderemo al massimo per aiutare Veronica. La situazione è complessa ma ce l'ammetteremo tutta. Dopo una prima visita alla ragazza il dottor Di Leonardo si è congratulato con i colleghi di Lecce per l'ottimo lavoro svolto e guida un'equip che sta monitorando la giovane donna 24 ore su 24. Anche la banca dei tessuti di Siene è mobilitata per la ricostruzione della pelle di Veronica, sicuramente un passaggio molto difficile. Dalla Puglia nel frattempo arrivano buone notizie per Vanessa, la sorella di Veronica, ricoverata in condizioni non gravi nell'ospedale di Brindisi, lo stesso dove si trovano anche le altre studentesse, Selene, Azzurra e Sabrina. Anche le loro condizioni migliorano. Torniamo a sabato scorso e al corteo imponente che si è tenuto per dimostrare ancora una volta che gli studenti non hanno paura. Vediamo. Nel triste e vergognoso attacco di quasi dieci giorni fa a Brindisi, quello che nessuno potrà dimenticare mai, nemmeno chi l'ha organizzato e messo a segno, è di sicuro la forza, la determinazione ed il coraggio dei giovani. Di quelli di Brindisi, insieme a tutti gli altri dell'Italia intera, che hanno saputo dare un segno concreto e sano ad una società tristemente alla deriva. Sabato un imponente corteo. Oggi, ancora di più, la voglia di giustizia e verità. Per la morte di Melissa, per il ferimento di altre cinque ragazze, è lo shock di una intera comunità che vuole stare insieme. Le tue mani rosse, verniciate, hanno un significato preciso, suppongo. Sì, ognuno di noi sta lasciando il proprio segno, letteralmente, sugli stressioni, sui cartelloni, insomma, su tutto quello che abbiamo fatto, per far vedere che comunque ognuno di noi, ogni persona, si sente partecipe di quello che stiamo facendo. Dal palco allestito in Piazza Vittoria, i ragazzi hanno gridato che non hanno paura. La lotta più dura comincerà quando i riflettori su questa storia si spegneranno, hanno detto. E non hanno risparmiato parole dure contro i giornalisti televisivi, invitandoli a non speculare, ma a stare zitti e ad ascoltare. Prima hanno cominciato ad esserci diverse piste. A un certo punto, addirittura, quando la pista, diciamo, del pazzo ha cominciato ad essere quella più fermata, alcuni ci chiedevano davanti alle telecamere, allora cosa vuol dire che questo non è più un fenomeno puramente italiano? Allora cosa vuol dire che non è più un'anomalia? Come non è un'anomalia? A noi non interessa che è stato. Noi non ci passeremo sopra, che sia mafia o terrorismo o un pazzo che poteva agire in qualunque altra parte. A noi non interessa. Non si può fare notizia solo delle cose che servono. Non bisogna fare notizia per tutto. La notizia qui non è la morte di una persona, non è speculare sul dolore, ma la notizia è quella che non ci siamo svegliati. E durante la manifestazione di Brindisi è arrivato il sostegno del sindaco Domenico Gonzales, che ha annunciato un forum che si svolgerà a Brindisi ogni anno il 19 maggio per difendere la democrazia e la legalità. Sono stato in tutte le scuole. Il paese l'ho visto unito rispetto alla tragedia, ma anche rispetto alla voglia di reagire, rispetto a qualsiasi possibilità di attacco da parte di chiunque può essere stato l'autore di questa tragedia. Appuntamento domani a Mesagne per un'altra manifestazione già organizzata da tempo, ma che ovviamente era stata sospesa dopo i fatti di Brindisi, perché ognuno scelga da che parte stare. Questo è il senso della manifestazione organizzata da Libera. Intanto oggi dal palco in Piazza Loggia, indossando proprio la maglietta con la scritta io non ho paura, ha parlato anche Martina, la presidente della consulta degli studenti di Brindisi. La ragazza ha detto a tutti voi, rivolgo un appello a non lasciarci soli. L'Italia deve essere unita nella lotta per la democrazia e la legalità. Aiutateci ad avere il coraggio delle idee e della memoria. Veniamo all'altra notizia di oggi, calcio scommesse, inchiesta calcio scommesse, nuovo terremoto nel mondo del calcio, 19 arresti, indagato anche Antonio Conte, l'ende di ingrandimento sull'Ecce Lazio dello scorso campionato. Mauro De Nigris. Una nuova raffica di arresti, 19 per la precisione, tra i quali quelli del capitano della Lazio Stefano Mauri, un terremoto che sconvolge il calcio italiano alla vigilia degli europei e la serenità della stessa nazionale interrotta da una perquisizione, perfino nel ritiro di Coverciano, dove si trova il difensore del Genoa Domenico Criscito, indagato. Così come è indagato in questo nuovo filone dell'inchiesta della Procura di Cremona l'allenatore della Juventus neocampione d'Italia, il leccese Antonio Conte. Un nome che fa notizia, come l'ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. La polizia ha perquisito anche l'abitazione del tecnico. Ad accusare Conte, come è noto, è stato l'ex giocatore del Siena Carobbio, secondo il quale l'allenatore sarebbe stato a conoscenza della presunta combin messa in atto lo scorso anno, quando Conte era a Siena, tra la squadra toscana e il Novara. Dichiarazioni in realtà smentite da altri compagni di squadra di Carobbio, ma alle quali evidentemente gli investigatori hanno dato un peso. Conte si è sempre difeso e dicendosi tranquillo, è pronto a chiarire tutto. Io ci sono dentro, faccio parte di questo gioco, ripeto, non lo condivido questo gioco, però ci faccio parte, quindi devo accettare le cose belle e le cose brutte. È una bufala, è una grande bufala e purtroppo si è dato un risalto a una non notizia. Anche il presidente del Siena, Massimo Mezzaroma, sarebbe indagato nell'inchiesta del calcio scommesse di Cremona, che ha portato oggi a diversi arresti. Nei confronti di Mezzaroma, secondo quanto si apprende, sarebbero scattate delle perquisizioni. Tra le altre partite di Serie A, su cui ci sono ulteriori sospetti, anche un'altra sfida del Lecce, quella con la Lazio nell'ultima giornata dello scorso campionato, terminata 2-4. Gli altri provvedimenti di custodia cautelare riguardano l'ex genuano Omar Milanetto, ora al Padova, e poi i calciatori bertani, acerbi, spellicori, turati, gritti e tisci, oltre che altri sei non calciatori coinvolti, domiciliari per Joelson e per altri due soci dell'ex calciatore Sartor, obbligo di firma per Ruopolo e Contè. L'attaccante del Genoa Sculli resta in libertà, ma gli indizi su di lui sono pesanti, come quelli appunto su Criscito e su Calazze. A gravare sui Genoani anche una cena con due capi Ultras e un pregiudicato bosniaco prima di Lazio-Genoa. Nel mirino della Procura anche il centravanti del Chievo, Sergio Pellissier, la cui abitazione è stata perquisita. E dopo la notizia degli arresti, il Codacons ha deciso di lanciare una mega azione legale finalizzata a far ottenere a scommettitori e tifosi del Bari il risarcimento per il pesante danno morale e materiale subito. Torniamo ad occuparci della vicenda dei due Marò pugliesi detenuti in India e slittata a mercoledì l'udienza davanti all'Alta Corte del Kerala per decidere sulla libertà su cauzione per i due Marò italiani. I fonti locali hanno riferito che il magistrato ha chiesto un nuovo parere al governo indiano prima di pronunciarsi sulla richiesta della difesa di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Latorre Girone si trovano da venerdì in un ex riformatorio ristrutturato nella città portuale di Coci dove assede anche l'Alta Corte del Kerala. La richiesta di libertà provvisoria era stata respinta per due volte dal Tribunale di grado inferiore di Collam per ragioni tecniche. Gli italiani si sono quindi rivolti all'Alta Corte del Kerala, organo giudiziario superiore. Ma la settimana scorsa il giudice aveva chiesto al governo centrale di manifestare in Tribunale la sua opinione sulla richiesta italiana. Cambiamo argomento e veniamo ad una notizia del fine settimana che sicuramente ha suscitato polemiche e posizioni molto dure dopo un botte e risposta tra Confindustria e Regione Puglia. Nichi Vendola non vuole sentire parlare di pace con Confindustria dopo lo scambio di accuse con il presidente degli industriali pugliesi, Angelo Bozzetto. Nemmeno il tentativo di distensione di Vito Paolo Nitti, presidente di Fidindustria, è riuscito a distendere gli animi e il governatore di fatto chiede le dimissioni di Bozzetto. E allora sentiamo questa intervista rilasciata a Mauro De Nigris. Un problema che si è determinato, non l'abbiamo determinato noi, abbiamo subito un attacco ingiurioso e ingeneroso. Sono molto contento del fatto che da larga parte del mondo imprenditoriale sia stato espresso disappunto nei confronti del tono, dello stile, degli argomenti usati dal reggente di Confindustria. I soggetti imprenditoriali che hanno operato con la Regione Puglia in questi anni sanno qual è il lavoro che è stato fatto, quali sono i risultati che possiamo tutti apprezzare. Quindi aspettiamo che Confindustria maturi le proprie decisioni. Per noi quella porta si è chiusa. Presidente, anche dopo il mezzo passo indietro di Nitti, di Fidindustria? Per noi l'attuale reggente di Confindustria non è più un interlocutore. Molto chiaro, mi sembra, il discorso. Due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 3.2 sono state registrate rispettivamente alle 3.06 e alle 3.32 di questa mattina al confine fra Calabria e Basilicata, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il primo sisma ha avuto ipocentro a 3 chilometri di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni cosentini di Castrovillari, Morano Calabro, San Basile e Saracena. La seconda ipocentro a 8 chilometri ed epicentro vicino ai comuni potentini di Rotonda e Vigianello e quello cosentino di Morano. Dalle verifiche effettuate non risultano danni alle persone. Danneggiato invece il campanile di una chiesa a Morano. E veniamo ad una notizia. Non è stata aperta nessuna inchiesta, ma solo una informativa per conoscenza alla procura di Lanciano sull'incidente allo zoo Park Safari di Rocca San Giovanni in provincia di Chieti dove ieri una bambina di Foggia di 4 anni è caduta da un elefante procurandosi un trauma cranico. In base agli accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Ortona la piccola era in braccio al padre sul dorso del pachiderma per fare delle foto quando improvvisamente è scivolata perdendo la presa con il papà. E prima della pubblicità una notizia per segnalare il successo di una manifestazione ormai molto seguita. Oltre 12 mila partecipanti alla sesta edizione della Race for the Cure organizzata ieri a Bari dalla Coma in Italia, la Onlus che ha portato anche nel capoluogo pugliese grazie allo straordinario impegno di un gruppo guidato dal professor Vincenzo Lattanzio il principio della solidarietà e della voglia di combattere i tumori al seno puntando molto sulla prevenzione. Una corsa da record perché il muro dei 12 mila dell'edizione 2011 è praticamente stato superato. Madrina della manifestazione barese Rosanna Banfi, figlia del noto attore Lino Banfi nonno libero, attrice popolarissima, moglie e madre qualche anno fa colpita dal male ma guarita e convinta a lottare. Noi prima di andare in pubblicità facciamo una brevissima scorsa su internet perché vi abbiamo lanciato delle domande, due in particolare riferite all'inchiesta calcio scommesse e all'allarme bomba a Bari. Sull'inchiesta calcio scommesse vi abbiamo chiesto un commento, sono stati diversi commenti ovviamente tutti orientati sul fatto che questi calciatori guadagnano milioni di euro non ci si aspetta atteggiamenti di questo tipo e allora giustamente il primo commento è quello di Michi che si chiede che cosa dovrebbe fare allora un pensionato o un disabile o un precario che guadagna pochi euro al mese. E poi i fratti e violenti e di sciacallaggio vi abbiamo chiesto se vi sentite sicuri praticamente tutti avete risposto sinora di no. Andiamo in pubblicità, ci ritroveremo fra tre minuti. Per parlare in maniera positiva anche insomma per dare lo stacco rispetto a tante notizie negative che normalmente vi proponiamo nei nostri telegiornali della tappa di questa settimana di viaggio nell'impresa organizzato da Confindustria Bari e Bat per far scoprire le aziende di eccellenza del nostro territorio. Oggi vi racconteremo delle cantine carpentiere di Castel del Monte. Eccoci in studio, come vi dicevo insomma per questa ultima parte del nostro telegiornale un momento in cui tiriamo un sospiro di sollievo perché ci sentiamo propositivi ma soprattutto orgogliosi poi di seguire esempi di buona impresa perché grazie all'esperienza e al viaggio che Confindustria Bari e Bat ci sta facendo condurre stiamo scoprendo un sacco di realtà che ignoravamo ma soprattutto le vere eccellenze di questo territorio così prezioso e di cui vantarsi ogni tanto. Oggi è la volta delle cantine carpentiere di Castel del Monte e allora io vi presento subito i miei due ospiti che accolgo con molto piacere Enzo Carpentiere Lo accolgo perché per la prima volta lei è qui e quindi c'è il battesimo del video invece un grazie particolare per essere qui nuovamente con noi a Marina Lalli che è un pochino più esperta Grazie Allora cominciamo da questo aspetto veramente positivo che infonde tutto sommato questo viaggio che rappresenta una boccata d'ossigeno intanto per la comunicazione perché si finisce che nella quotidianità noi siamo costretti sempre a dare cattive notizie e magari a non rappresentare delle forze su cui poter contare nel territorio Esattamente questo è proprio il direttore a quello che il nostro presidente ci tiene a far passare l'idea è sua e finora ha avuto veramente grande successo questa iniziativa perché stiamo percorrendo proprio un piccolo viaggio tra tutte le aziende nostre associate che sono un vanto del nostro territorio e oggi sono veramente felice di essere io a portare la testimonianza del viaggio della tappa del viaggio nelle cantine carpintiere perché si tratta davvero di un'azienda che anche io ho visitato per la prima volta con questo appuntamento e sono rimasta davvero strabiliata dal vedere una organizzazione perfetta un'azienda meravigliosa tenuta benissimo che ha un potenziale di crescita davvero importante che sta purtroppo come sono i tempi dell'agricoltura con lentezza prendendo i frutti di quello che ha seminato già da anni e adesso noi vediamo il lavoro svolto e rimaniamo davvero strabiliati Allora un'impresa di questa portata è possibile primo perché insomma le testimonianze e soprattutto quello che vedrete ve lo racconteranno e secondo perché organizzativamente parlando è un'opportunità che si deve cogliere si sente spessissimo parlare di giovani che devono tornare alla terra perché il nostro ospite è un bocconiano anche se ultimamente non vanno di grande moda però io lo volevo sottolineare che diciamo però è un bocconiano in controtendenza e che invece ha fatto del suo studio, della sua capacità intellettuale un bel bagaglio da mettere a disposizione del territorio sì esattamente in realtà se devo essere preciso i bocconiani siamo in due perché c'è anche mio fratello siete macchiati siamo macchiati da questa onta della bocconi tutti e due però per una parte per amore per la nostra terra dall'altra parte perché c'è comunque la passione l'attaccamento a un certo tipo di lavoro abbiamo fatto come dicevi appunto adesso tu giustamente siamo tornati qui per investire o meglio per cercare di portare quel poco, quel tanto che avevamo appreso nel nostro percorso di studi sul nostro territorio e cerchiamo, speriamo di farlo tutti i giorni con discreto successo e allora la televisione immagine vi abbiamo raccontato per iniziare qual è l'esperienza importante che Mariella Vitucci è riuscita a sintetizzare in un servizio e questa è la prima parte e ve la proponiamo guardiamola insieme Sulle colline dominate da Castel del Monte a 450 metri sul livello del mare nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia in quest'angolo di Puglia impregnato del mito di Federico II sorge l'azienda vitivinicola Carpentiere una moderna cantina è stata impiantata accanto ad uno iazzo del 1200 storia è presente, tradizione e innovazione convivono e si fondono in questa antichissima proprietà ereditata dai fratelli Luigi ed Enzo Carpentiere imprenditori barlettani di terza generazione dalla famiglia materna 100 ettari di terreno 18 di vigne 11 di ciliegi 65 di Altamurgia 16 tra costruzioni piazzale, strade e daia questa è l'azienda Carpentiere nata nel 2004 i vigneti 90% uva di Troia autottono 10% Cabernet Merlot impiantati a fine anni 90 in terreni calcarei e ciotolosi che garantiscono una maturazione ottimale delle uve sono levati a spalliera in filari fittissimi i grappoli raccolti a mano e selezionati fermentano con lungo contatto del mosto con il pigiato e il diraspato le cantine Carpentiere sono le uniche ad ottenere i vini bianchi, rossi, riserva e rosati dal medesimo vitigno dell'uva di Troia quando i fratelli Carpentiere entrambi laureati in economia alla Bocconi hanno deciso di riprendere la tradizionale attività del nonno Luigi e del papa Mario hanno puntato su una produzione artigianale di altissima qualità uve selezionate, filiera interamente biologica alta tecnologia e tempi lenti consentono di ottenere vini eccellenti fare una cantina non è semplicemente prendere e pigiare l'uva e metterla in bottiglia il percorso è molto lungo perché va studiato prima di tutto il territorio e quindi capite quali sono le sue peculiarità e le sue potenzialità da un punto di vista sia viticolo che enologico dopodiché va piantato un vigneto che di solito come tutti i ragazzini giovani nei suoi primi anni di età non esprime mai grande nobiltà nei prodotti che dà e poi in più bisogna tenere presente che noi non siamo un'azienda che ha nel DNA la vendita del vino dannata giovane perché noi riteniamo come azienda che il vino abbia bisogno di un determinato percorso di invecchiamento dopo quasi dieci anni di produzioni sperimentali sotto la guida esperta dell'enologo Franco Pastore il vino della vendemmia 2005 fu il primo imbottigliato per la vendita e fu solo il principio di un cammino verso sfide e mercati da conquistare oggi la metà dei vini carpintiere viene distribuita in nanoteche e ristoranti italiani l'altra metà raggiunge gli stessi canali di vendita in Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra e da tre anni il vino carpintiere arriva anche in Cina nei ristoranti italiani e francesi di Pechino e Shanghai Questa era la prima parte del servizio una domanda per ognuno prima di arrivare alla seconda parte abbiamo capito anche il processo importante di costruzione di una impresa attraverso questo viaggio che Confindustria Bariebat sta portando avanti se dovesse rilevare degli elementi di congiunzione tra le aziende visitate e riproporlo a chi in questo momento ha bisogno di una spinta per metter su un'idea soprattutto ai giovani che tra l'altro so veramente che avete molto a cuore assolutamente quale sarebbe? l'elemento di congiunzione visto che io sono presidente della sezione turismo mi viene subito in mente di parlare di questa unione che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di Confindustria tra turismo e agroalimentare e infatti ecco perché l'azienda di Carpentiere ben si sposa anche in questo perché noi siamo convinti che l'amore per il nostro territorio e per la voglia di visitare il nostro territorio passi anche da quell'offerta alimentare che noi sappiamo dare e quindi la gente intanto si trova bene perché trova delle cose bellissime da vedere da visitare ma anche perché ama il nostro stile di vita ama il nostro cibo ama il nostro vino ama tutto ciò che noi possiamo offrire durante l'ospitalità e quelle cose lì può anche portarle a casa assolutamente quindi è anche bello per questo è molto importante una domanda invece a lei perché rappresenta anche una curiosità non mia ma di chi è stato a visitare questo meraviglioso spazio che abbiamo visto nel servizio ma vi è mai balenata l'idea che subito dopo questo percorso che avete fatto ci possa essere un'evoluzione dedicata alla ristorazione per esempio? in realtà il pensiero ci è venuto così come anche la societazione dall'esterno sono state tante solo che proprio perché l'azienda la nostra azienda è un'azienda giovane abbiamo ritenuto giusto e corretto percorrere ciascun passo con il proprio tempo e nel modo corretto e quindi non andare subito a 360 gradi e di conseguenza magari distribuire le potenzialità e le energie su più progetti ma dedicarsi in maniera accurata al nostro principale progetto che è quello del vino per poi magari in un prossimo futuro dedicarci al proseguimento come dicevi tu del progetto molto saggio vediamo allora la seconda parte del servizio realizzato da Mariella Vitucci entriamo in cantina dove il vino viene prodotto secondo metodi tradizionali ma con tecnologie moderne per vincere i due nemici del vino luce e sbalzi termici l'intero ciclo di produzione avviene al coperto ed è termoregolato 40 cisterne frigorifero condizionano la temperatura di mosto e vino le uve raccolte a mano arrivano qui direttamente dai vigneti al contrario delle cantine industriali non c'è una buca di scarico dove i grappoli vengono gettati e inevitabilmente schiacciati una volta separati dalle raspe gli acini arrivano nei sei vinificatori è qui che lo zucchero si trasforma in alcol il segreto per un vino eccellente è raccogliere le uve al giusto grado di maturazione Merlot a fine agosto Cabernet a settembre Merlot di Troia a partire da ottobre inoltrato tempi controllati anche per l'eliminazione delle bucce immediati per il vino bianco dopo 7-8 ore per il rosato dopo 10 giorni per il rosso nei tini anche sì in acciaio avviene il processo di decantazione che fa depositare sul fondo la impurità quindi per i rossi comincia la fase di invecchiamento in botti di rovere da 750-2500 litri dove il vino resta dai 12 ai 36 mesi per ammorbidire il tannino del Nero di Troia e acquistare nobiltà a questo punto viene filtrato attraverso pannelli e cartoni di cotone prima di essere affinato in vetro per almeno tre mesi le cantine carpintiere sono state le prime a utilizzare il Nero di Troia per produrre un vino bianco il nome, come D'Incanto evoca la magia di una scommessa vinta col sorprendente risultato di un bianco da tavola di colore luminoso sapore fruttato che profuma di miele e frutti rossi quando il nonno portava il vino a casa andava sotto la pigiatrice prendeva il fior della premitura che ovviamente è bianco e lo portava a casa e allora a quel punto ci siamo detti proviamo partita per scommessa partita per gioco forse anche se vogliamo un po' per follia alla fine è diventato un grande successo perché ancora oggi dopo sei anni che produciamo questo vino il come D'Incanto ha una grandissima richiesta si chiama a prima luce il vino rosato a marchio Carpentiere che annuncia i profumi della nuova vendemmia doc Castel del Monte frutto delle uve di Troia venificata in bianco a colore rosato e profuma di lamponi e frutti di sottobosco i rossi Carpentiere sono tre due di essi evocano tradizioni legate alla transumanza Pietra dei Lupi è un omaggio allo Iazzo della Tenuta perfettamente conservato che per secoli ha ospitato armenti e pastori di passaggio ci sono un mungitoio con sei postazioni una stanza per i pastori una per i formaggi e gli affumicati tre yazzi affacciati a sud per proteggere le greggi dalla tramontana a difenderle dagli assalti notturni dei lupi invece erano appunto le pietre dei lupi pietre a sbalzo che impedivano ai predatori lo scavalcamento dei muri a secco secco e morbido con spiccato sentore di amarena e frutti di bosco il rosso pietra dei lupi viene affinato in rovere per almeno 12 mesi Armentario è un rosso che conserva i sapori dell'antico mondo contadino le cui stagioni erano scandite dalla transumanza affinato per almeno 24 mesi in rovere è secco e valutato dal profumo avvolgente l'altro rosso Colle dei grillai è un omaggio a Federico II sin dai tempi dell'imperatore di Svevia infatti sulle colline di Castel del Monte si cacciava con i falchi grillai specie protetta di rapaci uvaggio sapiente tra uva di Troia e Cabernemerlo il Colle dei grillai a colore rosso rubino e sentore di lamponi Armentario come di incanto pietra dei lupi prima luce Colle dei grillai i cinque vini delle cantine carpentiere sono protagonisti delle degustazioni riservate a turisti e visitatori che dopo un percorso in azienda fra storia e presente vengono accolti in un'ampia sala con vista sulle vigne un paradiso per occhi e palato che non manca di conquistare i tanti stranieri che soprattutto tra fine aprile e novembre giungono qui a Castel del Monte insomma vi è in voglia di tornare alla terra soprattutto quindi questo è un bel elemento su cui ragionare io vi ringrazio per essere stati con noi brindiamo noi alla vostra salute idealmente e buon proseguimento del viaggio perché continua assolutamente sì grazie grazie davvero noi a questo punto ci salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato come sempre a questo punto lascio la parola a Lara Torres per i suoi consigli ad hoc per voi ci vediamo domani come sempre alle 13 e 25 grazie per essere stati anzi no questo è un déjà vu alle 14 il palinzesso estivo ormai grazie per essere stati con noi domani alle 14 sempre qui puntuali sigla grazie per la sigla grazie per la sigla